Buongiorno ragazzi, oggi torniamo ad occuparci del programma di letteratura, precisamente continuiamo con la letteratura rinascimentale, dopo aver affrontato Boiardo affrontiamo Ludovico Ariosto. Siamo nello stesso contesto spaziale, siamo sempre alla corte di Ferrara, quindi presso la signoria degli Estensi, quindi la famiglia d'Este, una delle principali signorie, nonché famiglie dell'epoca, che ha anche espresso delle personalità importanti in termini religiosi, espresso dei papi, dei cardinali e così via. Il rapporto di Ariosto con la famiglia Estense era lo stesso che aveva Matteo Maria Boiardo, quindi un rapporto di mecenatismo, quindi l'autore era, soggiornava presso la corte di questa signoria ed era pagato per produrre ciò che sapeva fare, ovvero opere letterarie. L'autore, un autore molto importante e estremamente originale per l'epoca, nasce nel 1474 e muore nel 1533, questo per farvi capire in che epoca siamo e quindi possiamo situarlo da un punto di vista storico. La provenienza di Ariosto non è molto distante da quella dove poi passerà tutta la vita, nasce a Reggio Emilia e si trasferisce quasi subito a Ferrara con la famiglia. Compie alcuni studi di diritto, ma in realtà poi la sua vera passione è quella letteraria e quindi sarà proprio la passione letteraria a contribuire maggiormente alla sua formazione. Entra sin dai primi del Cinquecento al servizio di Polito d'Este, quindi vescovo di Ferrara ed esponente importante della famiglia degli Estensi e come era solito, come era abbastanza consueto all'epoca, gli autori si occupavano anche di lavori, incarichi diplomatici, incarichi di vario tipo, non soltanto letterari, ne è un caso Dante, Machiavelli, quindi abbiamo numerosi esempi nella letteratura. Quando entrerà poi al servizio del Duca Alfonso d'Este, cominciò ovviamente successivamente nel 1518 ad assumere incarichi sempre di maggior rilievo, maggior ripreggio, quindi soprattutto missioni diplomatiche e incarichi di rappresentanza. Fu uno dei pochi autori che vide consacrata la propria fama, il proprio successo in vita, in quanto il contesto della corte di Ferrara gli ha permesso senza dubbio di accedere alla fama di scrittore, è uno dei pochi per l'epoca. Quindi è uno dei pochi autori che vede consacrata in vita il proprio successo. Da un punto di vista della produzione, noi sappiamo che Ariosto ha una produzione estremamente variegata, eterogenea, cioè una produzione sia in volgare che in latino, per quanto il volgare sia soprattutto la lingua dell'espressione ariostesca. Abbiamo sia delle poesie, quindi una iniziale produzione lirica, abbiamo anche una minima produzione teatrale, abbiamo anche un epistolario e poi abbiamo le satire. Le satire forse sono l'opera di maggior rilievo dopo l'Orlando Furioso. Chiaramente per il nostro programma è fondamentale studiare l'Orlando Furioso. L'Orlando Furioso è un poema epico-cavaleresco, che viene cominciato addirittura nel 1507, è quasi mai terminato poiché viene interrotto dalla vita e dalla morte di Ariosto, quindi nel 1533. Diciamo che l'opera era pressoché terminata. Quindi è una scrittura che prende buona parte della vita dell'autore. È la prosecuzione dell'Orlando innamorato di Boiardo, che noi abbiamo già studiato, che era rimasto incompiuto per la morte prematura dell'autore. L'opera ebbe un immediato successo anche nelle prime edizioni, quando ci sono numerose edizioni dell'opera. Ebbe molto successo in quanto si trattava di un genere estremamente di tendenza per l'epoca nella corte di Ferrara. Quindi i cortigiani si riunivano spesso per sentire oralmente questo tipo di gesta, quindi non era un'opera prettamente dedicata alla lettura personale, ma si trattava ovviamente di un rito collettivo che i cortigiani consumavano alla corte di Ferrara. Ovviamente l'argomento è molto simile a quello dell'opera alla quale si ispira, ovvero l'Orlando innamorato. C'è chiaramente un cambiamento. Orlando qui non è più innamorato, ma è furioso. Quindi i personaggi e le vicende sono attinti dall'Orlando innamorato, che a sua volta attingeva la materia del ciclo carolingio, quindi la tradizione dei cavalieri di Carlo Magno. L'abilità e l'originalità di Ariosto sta nel fatto di fondere la tradizione carolingia con la tradizione arturiana o anche ciclo bretone, si tratta della stessa cosa, quindi i cavalieri alla corte di Re Artù, quindi in Bretagna. Chiaramente la fusione di questi due generi, chiamiamoli così, chiaramente si porta dietro tutte le tematiche che appartenevano ad ogni genere, quindi la virtù militare, la fedeltà al sovrano e l'abilità guerriera per il ciclo carolingio, la magia e il sovrannaturale per il ciclo bretone. La vicenda è la seguente. Orlando è innamorato di Angelica e abbandona la guerra. Quando si sente respinto e tradito da Angelica, che è scappata contemporaneamente con Medoro, che è un guerriero saraceno, finisce per impazzire. La pazzia di Orlando quindi è il leitmotiv, quindi il motivo centrale dell'opera. Parallelamente vi sono altre vicende ovviamente, come per esempio la storia d'amore tra Ruggero e Bradamante, che poi sarà un po' il motivo encomiastico, il motivo della scrittura dell'opera, ovvero dare un'origine celebre e nobile e antica, soprattutto alla casata degli stensi. Quindi era questo un po' il succo del significato dell'opera. Di conseguenza Ariosto fa un'operazione estremamente importante e originale, cioè attinge a numerosi fonti diverse, quindi dal ciclo cavalleresco ad alcuni romanzi francesi, ad alcuni classici. Questa cosa fa sì che si tratti di un'opera estremamente originale, ma anche estremamente complicata, proprio per il fatto che ci sono più filoni narrativi. Quindi era... ha un impianto narrativo estremamente complicato. Noi, al di là della trama, che potete tranquillamente reperire, isoleremo tre filoni narrativi, tre impianti, tre filoni narrativi principali. Sì, il primo ovviamente è la guerra tra i franchi e i saraceni, quindi tra il regno fedele al cattolicesimo e i musulmani, che è chiaramente derivante dal ciclo carolingio. Poi abbiamo la pazzia di Orlando, che occupa la parte centrale del poema, con la conseguente perdita di senno e conseguente recupero del senno da parte di Astolfo, che va sulla luna con l'ipogrifo, e questo è chiaramente una citazione del mondo sovrannaturale del ciclo bretone. La terza, il terzo filone narrativo è quello dell'amore tra Ruggero e Bradamante. Oltre a questi filoni principali, ovviamente, ci sono numerose storie secondarie, numerosi flashback, numerose digressioni, che fanno sì che il poema abbia una struttura policentrica, ovvero non esiste un'unica trama principale, ma ci sono più trame. La genialità di Ariosto sta nel far tenere insieme in maniera coerente tutte queste cose. Questa tecnica dell'intracciamento, che in francese si chiama entre las man, te l'avevo già spiegato, consiste nel, in questa tecnica letteraria, che consiste nel legare insieme più episodi, più filoni narrativi tra loro, cercando di tenere sempre accesa e sveglia l'attenzione del lettore, facendo sì che non dimentichi un filone piuttosto che un altro, e facendo sì che i filoni avanzino quasi simultaneamente. Una tecnica molto poi utilizzata nel cinema, ma per il Cinquecento è chiaramente qualcosa di estremamente innovativo. Di conseguenza, l'opera è percepita come labirintica, in quanto vi è una struttura in cui i personaggi a volte si perdono, a volte si ritrovano, ricompaiono, a volte alcuni episodi possono sembrarne marginali, altri meno. Quindi è tutta un'opera che si basa su questo concetto di intrecciamento e di struttura policentrica o labirintica, che dir si voglia. Chiaramente abbiamo già parlato dello scopo per il quale nasce quest'opera, l'intrattenimento del pubblico. Siamo in una società rinascimentale, in una delle corti più sviluppate da un punto di vista culturale, che è quella della corte di Ferrara. Chiaramente Ariosto vuole cavalcare il gusto di tendenza che si era già sedimentato a Ferrara, riprendendo la materia di Boiardo e dell'Orlando innamorato. Al tempo stesso, però, non si tratta dell'unico scopo del poema. Ariosto, attraverso i suoi personaggi, vuole dare un'interpretazione allegorica, simbolica, di quello che è l'uomo, è un po' il senso della vita. Ci sono infatti delle tematiche importanti. C'è il dramma dell'esistenza, vi è il dramma dell'uomo che deve rinunciare ai propri sogni, vi è l'amore, vi è la conseguente delusione, vi è la follia, che spesso, secondo Ariosto, è molto presente nel mondo, vi è la saggezza, quindi di coloro che riescono a dominare la follia. Al tempo stesso, probabilmente, al fondo di tutta l'opera, vi è un velato pessimismo, che caratterizza un po' tutta l'opera. Quindi non è un'opera così divertente, così comica, come si possa, come si può immaginare. Anche da un punto di vista della lingua e dello stile utilizzato, abbiamo anche qui una struttura policentrica, nel senso che c'è una sorta di plurilinguismo. Abbiamo vari livelli di stile, abbiamo uno stile classico, delle forme estremamente fluide, quindi è molto facile da leggere, però al tempo stesso abbiamo un registro linguistico abbastanza caotico, nel senso che abbiamo numerosi personaggi che parlano delle lingue diverse, proprio perché deve adattarsi al reale, quindi è un'opera estremamente realistica in questo. Importante poi è sottolineare che l'amore tra Ruggero e Ebradamante servirà a dare poi origine alla casata degli Este. Questo è il motivo per il quale viene poi scritta interamente l'opera. Ciò che possiamo interpretare da quest'opera è ovviamente un costante e continuo intreccio tra ciò che è l'arte e tra ciò che è la vita. Quindi spesso la poesia può aprire dei mondi di fuga nella realtà, e lo vediamo nell'episodio per esempio di Astolfo sulla luna, ma al tempo stesso la poesia può dimostrarsi anche uno specchio della realtà. Quindi vi è questo costante intreccio tra ciò che è vita e arte, tra ciò che è scrittura e invenzione letteraria. È un'opera estremamente sperimentale per l'epoca, potete immaginare, sia per lo stile, sia per la tecnica dell'intrecciamento, eccetera. Al tempo stesso è un'opera che, al di là della trama, che può sembrare complessa e quasi banale a volte, in realtà racchiude dei significati estremamente importanti di portata generale. Quindi tutte quelle che sono le dinamiche tipiche del pensiero umano sono raccolte nella trama.